Ed ora, come tutti i visitatori di questo pellegrinaggio, ci doniamo un po' di gioia. Questi uccellini, guardali svolazzare. Questi pompelmi che ci sono al di sotto, sono il compleanno del Vercellese. Sì, rosse. Questi uccellini, guardali svolgi. Questi uccellini, guardali svolgi. Questo cilindro e questo muro separa Biella da Vercelli. Il terremoto del 1984. Nell'84 un terremoto drammaticamente distrusse queste risaie. L'acqua tutta fuori dai campi. Un disastro inumano. Neonati scappavano via dal castello di Quinto in cerca di fortuna. e fondarono la città di Olcenengo. Perché questo posto non esiste. Dove ci condurranno questi passi, questi passi, questi pascoli? Questo viaggio potrebbe durare ancora 5, 6, 7, 8 metri. Ed è in quel canneto che si sviluppò la prima società vercellenza. Armati di Cotesta Conoscenza. Questo soffio di sale. Sale eccellesa. Grazie a tutti.